Ho appena finito di vedere a caldissimo l'episodio 4 di Falcon and the Winter Soldier, episodio mozzafiato ragazzi. Prima di cominciare vi ricordo sempre, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale cliccando qui sotto, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, condividetelo con tutte le persone che si credono Capitano America e commentate con quello che ne pensate di questo video e dell'episodio, ovviamente. Seguitemi anche sugli altri miei social perché il martedì, soprannominato ormai Marvel D, parliamo sul sito Viola di Approfondimenti Marvel. In questo caso sicuramente parleremo di questa puntata perché c'è tanto da dire e cercherò di riassumerlo in questo video. Devo dire che hanno usato l'episodio Giro di Boa della settimana scorsa, quindi l'episodio 3, per appunto affrettare le cose ed entrare nel vivo. Infatti credo che l'episodio di settimana scorsa sia quello che un po' ha risentito di più dal punto di vista della sceneggiatura. C'erano un pochino di forzature. Superate queste forzature, questo episodio viaggia davvero alla grande. Ci eravamo lasciati con un cliffhanger in cui le guardie wakandiane volevano riportare Zemo in prigione per quello che ha fatto al popolo wakandiano, cioè aver ucciso il Red Chaka, padre di Black Panther, dato che c'è un rapporto tra il soldato d'inverno soprannominato appunto Lupo Bianco dal Wakanda e il popolo del Wakanda dopo gli eventi di Civil War, raggiungono un accordo in cui hanno otto ore di tempo, diciamo, per continuare a sfruttare la conoscenza di Zemo, dei supersoldati in generale, per poter porre fine ai Flag Smasher. Quindi questa trama, diciamo, questo cliffhanger sul Wakanda è stato sospeso per poi addentrarci nel continuo della storia. Fortunatamente perché per quanto sia corretto che anche l'Wakanda si occupi di Zemo, cioè per far vedere anche quanto potere ha l'Wakanda nel mondo nonostante sia una nazione che fino a poco tempo fa era stata nascosta, è anche giusto che non ci si concentri su questo aspetto dato che mancano pochissimi episodi e ci sono tante trame aperte. Devo dire che Zemo ormai nel Marvel Cinematic Universe è diventato il nuovo Loki. Tutti i meme lo confermano, le persone sono rimaste affascinate dal carisma di questo nuovo Zemo. Dico nuovo Zemo perché non si può negare che gli hanno cambiato leggermente il carattere per adattarlo di più a quello che è Zemo nei fumetti. C'è stato quindi una piccola retcon su quello che sono le origini anche di Zemo. nulla che vada a cozzare con quello che abbiamo visto in Age of Ultron e Civil War è un pochino forzato però comunque ci può stare. Detto ciò questo appunto nuovo Zemo con queste origini nobili, il fatto che sia barone, il fatto che si comporti in questo modo lo rendono a tutto e o per tutto, a livello di fascino, a livello di carisma, un cattivo da amare come è stato Loki nella fase 1 e successiva nell'Infinity Saga, così si può dire, del Marvel Cinematic Universe. Non mi dispiacerebbe vederlo anche nei film successivi, non dico in un percorso di redenzione come quello che ha fatto Loki ma in una veste in cui è un cattivo che però aiuta i protagonisti, sempre però cercando di andare avanti nel suo fine. Sarebbe un po' difficile, dato il suo odio per i super soldati e per gli Avengers, però sarebbe davvero fico da vedere di nuovo e di nuovo e di nuovo, così come è stato per Loki. Anche lo spirito da Buddy Comedy è migliorato di nuovo in questo episodio, dopo due episodi molto frizzanti. Il terzo era un pochino anticlimatico perché il clou, il grosso della commedia d'azione lo abbiamo avuto nello scontro armato tra Sam, Bucky, Sharon Carter e tutti i cacciatori di teste a Madripoor ma era una scena che non ci si aspettava fosse anche commedia e quando Sam e Bucky hanno iniziato a fare le loro solite battute all'arma letale è stato un attimino... mi ha tolto un po' quella tensione che stava generando quella scena. Qua invece è di nuovo dosata benissimo, lo abbiamo visto nella scena del piccolo scontro tra le guardie wakandiane e John Walker, soprattutto nel lancio di battute sempre tra Sam e Bucky che quando scherzano tra di loro sono davvero momenti fenomenali. questa battaglia, questo piccolo scontro in realtà non è una battaglia è stato tanto epico quanto divertente per non parlare del fatto che è stato magistralmente coreografato mi è piaciuto davvero tanto come lo hanno girato. È un episodio dove ci si concentra un po' di più sui personaggi e un po' meno sulla trama che ormai conosciamo e va avanti da sola mi piace come stiano affrontando i vari livelli di profondità dei cattivi. Solitamente io non amo che il Marvel Cinematic Universe tratti i cattivi più cattivi rendendoli umani e quindi togliendoli anche quel pizzico di cattiveria che un po' ci vuole tant'è che appunto i personaggi più carismatici sono quelli che un po' cattivi sono rimasti vedi Loki, vedi appunto questo barone Zemo lo stesso Thanos con queste ideologie così razionali nella sua testa sembrava meno crudele, quantomeno il Thanos di Infinity War. Qua invece mi è piaciuta questa cosa quindi una cosa che solitamente non amo, cioè umanizzare troppo i villain qua l'ho apprezzata davvero. Nei film diciamo polizieschi del Marvel Cinematic Universe quindi Captain America e simili ha senso umanizzare i cattivi perché sono umani fondamentalmente non sono spietati serial killer. In questo caso mi è piaciuta l'umanizzazione di John Walker che ormai considero un cattivo a tutti gli effetti un cattivo che diventerà e di Carly stessa. Mi è piaciuto molto il confronto che hanno avuto Carly e Sam mi è piaciuto come pensino le stesse cose ma usino due metodi diversi per portare avanti la loro causa, la loro ideologia mi è piaciuto davvero tanto come hanno affrontato questa cosa e mi è piaciuto tanto come John Walker nonostante a ogni episodio sia sempre più simile al patriota sempre più simile a anche un cretino fondamentalmente che per la sua mania di controllo, per la sua mania di potere di essere lui a capo dell'operazione di essere lui a avere il manto di Captain America rovine addirittura le operazioni che si erano prefissati insieme con Sam e gli altri ma nonostante questo nonostante questa sua discesa verso l'oblio mi è piaciuto il momento che ha avuto con Battlestar in cui lo abbiamo visto quasi umano in cui abbiamo visto i motivi nella sua testa per cui dovrebbe approfittare della fiala del super soldato che è rimasta nelle sue mani sempre parlando di John Walker mi è piaciuto tantissimo l'entrata che ha fatto nel terzo atto nel finale fondamentalmente quando ha sfondato la porta e ha ricordato l'inquadratura in cui abbiamo visto per la prima volta Captain America nella sua divisa vera e propria in Captain America The First Avengers fateci caso è la stessa inquadratura lui entra con la stessa posa con lo scudo e la pistola come sapete se mi avete seguito fino a qui perché sto spoilerando l'ho scritto anche nel titolo il barone Zemo ha un genuino odio verso i super soldati vediamo che appena ha la possibilità di trovarsi davanti Carly li spara a sangue freddo e appena ha la possibilità di trovarsi davanti le fiale del super soldato quando magari si poteva supporre che ne conservasse una per qualche motivo egoistico per volersi elevare lui al super uomo e appunto imporre la sua di supremazia sugli altri quindi sarebbe stato anche uno Zemo ipocrita e quindi più cattivo in realtà sta fedele alla sua ideologia e distrugge tutte le fiale tranne una che però non nota la nota invece John Walker e da qui appunto il fatto che John Walker abbia preso il siero del super soldato un'altra cosa che solitamente non mi piace è il fatto che facciano le cose off screen cioè che a un certo punto succedono delle cose che tu hai intuito siano state fatte tra una scena e l'altra perché le vedi ma non non te le fanno vedere in questo caso il fatto che John Walker abbia assunto il siero del super soldato e non ce l'hanno mostrato nella videocamera mi è piaciuto molto perché l'effetto che hanno dato l'effetto sorpresa che hanno dato quando vediamo John Walker scagliare lo scudo nel cemento e incastrarlo quando vediamo John Walker piegare una barra d'acciaio e scagliare con un calcio lungo tutta la tromba delle scale uno dei flag smasher ha dato un risultato molto più inquietante di quello che non avremmo avuto se avessimo visto la scena vera e propria anche perché la scena vera e propria era abbastanza scontata non c'erano questi grandi dubbi esistenziali sul fatto che John Walker prendesse il siero francamente avrei preferito anche che avesse diviso la fiala tra lui e il suo amico Battlestar dato che nei fumetti entrambi se non sbaglio hanno il siero del super soldato qua invece il personaggio di Battlestar ha un ruolo molto più importante la sua vita o meglio la sua morte fa da catalizzatore per il cambio repentino di John Walker da Captain America in US Agent lo vediamo sbroccare dopo che vede il suo miglior amico morto dopo un semplice calcio di un potenziato di una che aveva assunto il siero del super soldato ovvero di Carly già era stato umiliato secondo la sua visione dalle guerriere wakandiane perché pur non essendo super soldati lo hanno battuto l'hanno superato in battaglia ed era già umiliato per questo quando poi per questo ha assunto il siero del super soldato e ha visto che un'altra potenziata ha ucciso il suo miglior amico quella è stata la goccia decisiva che ha fatto traboccare il suo vaso di follia e lo ha dimostrato pubblicamente utilizzando lo scudo che era di Steve Rogers per colpire a morte uno dei Flag Smasher probabilmente decapitandolo Disney Plus non ce l'ha fatto vedere o l'ha decapitato o gli ha fracassato la testa con lo scudo ci ha comunque regalato una scena fantastica dal basso verso l'alto con lo scudo totalmente insanguinato e questo John Walker questo nuovo Capitano America che è stato ripreso dalle migliaia di telefonini in diretta diciamo mondiale quindi per questo dico che a tutti gli effetti è un villain perché sicuramente il governo degli Stati Uniti prenderà le distanze da quello che ha fatto John Walker nel finale di questo episodio e lui a tutti gli effetti non sarà più Capitano America diventerà in un certo senso un villain raccomandazione di questa serie fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo episodio finora è quello che ho adorato di più perché ho visto finalmente tutto quello che volevo vedere tutto quello che speravo in questa serie vedremo come saranno le ultime due puntate io come sempre vi aspetto la settimana prossima alla stessa ora più o meno per parlare del quinto episodio vi aspetto martedì sera sul sito Viola per parlare di questo episodio in maniera approfondita e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video